E' sempre un'occasione dell'inaugurazione di questa nuova infrastruttura, il nostro inviato ha sentito anche il consigliere della Lega Nord, Nicola Finco. Consigliere regionale Nicola Finco, che è anche comunque consigliere della zona vicentina, proprio dove passa e dove c'è questo ponte importante di questa nuova superstrada pedemontana-Veneta. Quanto è importante per questo territorio, questa opera? E' un'opera fondamentale soprattutto per l'area della pedemontana, una delle aree che è sempre stata forte vocazione industriale e artigianale. Un'opera che ci voleva vent'anni fa, ma che la regione ha deciso comunque di intervenire attraverso anche il project per realizzare quest'opera, che servirà anche per il rilancio della nostra economia nei prossimi anni. Un'opera molto attesa dagli imprenditori e adesso la regione sta dando una risposta concreta.